Iniziamo la settimana con il consueto aggiornamento per quanto riguarda i grafici e l'analisi ciclica di Bitcoin ma è Ethereum che sta recuperando un po' di forza relativa sul re delle criptovalute e adesso in questo video andiamo a vedere anche il grafico Ethereum BTC vi proviamo a vedere che comunque anche questo recupero non va ad inficiare il trend ribassista che da settembre in pratica riguarda Ethereum contro Bitcoin con la forza relativa di Ethereum contro Bitcoin e nello stesso tempo però si vede anche come la resistenza a 31 mila dollari sia diventata il nuovo Spartiacqua la nuova resistenza madre che potrebbe in effetti innescare uno spostamento della fase di quotazione quindi dell'equilibrio di prezzo dalla zona attuale e anche da tutta la fascia di pricing che ha visto dove Bitcoin si è concentrato da aprile del 2023 quindi tutta questa fascia di prezzo tra 25 mila dollari e 31 mila dollari potrebbe essere spostata appunto su un nuovo livello un nuovo livello che poi consiste e consisterebbe appunto tra la struttura in pratica dei 31 mila dollari e della parte alta, scusate ragazzi che mi era cambiato il pennellino e della parte alta che è appunto intorno ai 35 mila dollari quindi nuova frangia, nuova struttura, nuova zona operativa per quanto riguarda Bitcoin bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di aggiornamento ragazzi sono nuovamente in viaggio quindi facciamo un recap veloce anche di quelle che sono poi le news che questa settimana ci saranno già vi anticipo che nella giornata di oggi e domani probabilmente non avremo così tanti movimenti o meglio non dovremmo averli sui mercati tradizionali per via del fatto che gli americani domani sono chiusi per la festa dell'indipendenza mentre oggi chiudono alle 13 ore agli americani i mercati quindi ovviamente ci sarà meno... siamo un prefestivo diciamo così però al di là di questo ci sono comunque dei dati che possono essere estremamente rilevanti in questa fase e soprattutto mercoledì quando ci saranno i verbali della riunione delle FONC anche se ragazzi come vi stavo dicendo ormai vi sto dicendo da un po' di tempo gli aggiornamenti per quanto riguarda la questione del tasso di interesse secondo me hanno meno peso sui mercati rispetto a quelli che avevano all'inizio dell'anno proprio perché i mercati ormai danno per scontato che ci sia una specie di pilota automatico attaccato a questo atteggiamento di politica restrittiva della Fed e quindi sostanzialmente non ci sia una grande differenza nella sua attività rispetto a quelli che sono appunto i dati e non si aspettano che durante questi interventi del FONC ci sia uno shock a livello di politica monetaria quindi probabilmente si aspettano la continuazione di quello che già pensano infatti nel FONC, nel meeting dove ci sarà il rialzo dei tassi prossimo della Federal Reserve il 26 luglio del 2023 l'attesa in questo momento è per un ulteriore rialzo dello 0,25 in pratica Powell ha preso una pausa nello scorso FONC, nello scorso meeting perché non ha alzati i tassi ma poi ovviamente le ha solo rimandati infatti il dubbio mi era venuto come mai avesse preso anche questo tipo di scelta quando era abbastanza logico che adesso è l'ultima zampata uno o due rialzi ancora quindi probabilmente ci avvicineremo ai 5,25 e 5,50 con questo rialzo e poi l'ultimo che dovrebbe avvenire a quel punto dopo l'estate quindi non prima di secondo me settembre-ottobre dovrebbe essere di un altro 0,25 qualora ci sarà necessità ma visti i ritmi dell'economia americana e del fatto che il tasso di disoccupazione non cresce cioè in sostanza anche il PIL l'abbiamo visto la scorsa settimana migliore del previsto e tutto il resto è difficile insomma che Powell tiri un freno a mano a questa politica restrittiva poi probabilmente sarà tutto rimandato all'anno 2024 con l'eventuale arrivo della fase recessiva fase recessiva che al momento non c'è ma che dovrebbe spuntare fare capolino proprio nel ultimo quadrimestre, l'ultimo quarter del trimestre dell'anno e qui quindi insomma ragazzi quindi poi sarà secondo me tutto rimandato verso fine anno questa questione allora per questa settimana abbiamo oggi solo l'ISM che è l'indice di direttore di acquisto, un indice di espansione monetaria o recessione quindi un indice recessivo quando non deve salire sopra 5, insomma questo è il discorso poi se andiamo alla... scusate ragazzi ok si era bloccato la registrazione allora come vi dicevo l'ISM essendo sotto 50 ovviamente può indicare un po' questa fase recessiva imminente che dovrebbe arrivare anche se ancora sul PIL non c'è una grande manifestazione di questa cosa però comunque siamo vicini, c'è addirittura questa un po' ripresa, cioè non è che proprio sia un disastro la parte invece della giornata di giovedì lascia un po' una serie di dati che potrebbero anche influenzare i mercati soprattutto perché veniamo poi da lunedì e martedì che probabilmente dovrebbe essere a bassa volatilità quindi anche giovedì come mercoledì potrebbero in effetti un po' muoversi un po' di più perché magari decidono di fare un po' più le bizze, di creare volatilità classica della settimana soprattutto per la richiesta dei sussidi di disoccupazione e le escorte di petrolio il resto è sostanzialmente abbastanza scontato tra le altre cose in miglioramento anche l'ISM, quello no, manifatturiero, insomma eccetera poi abbiamo invece venerdì il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti che è il vero dato secondo me di questa settimana ma che è previsto uguale al precedente quindi anche qui è difficile che ci sia un errore da questo punto di vista se c'è comunque è in negativo per il tasso di disoccupazione è positivo da questo punto di vista come la vivranno i mercati quindi sostanzialmente secondo me anche qui ragazzi c'è poco da fare allora i dati in questa frangente come vedete secondo me sono un po' meno importanti diciamo meno rilevanti rispetto a diciamo quello che abbiamo visto negli ultimi diciamo periodi allora andiamo a fare invece le analisi eccoci qua allora iniziamo soprattutto con la questione ciclica di Bitcoin siamo in un mensile avanzato probabilmente sul minimo della giornata di quello shock dovuto alla notizia della SEC che poi ha nuovamente diciamo sottolineato una nuova informazione quindi ancora non sappiamo se boccerà questo ETF o meno perché appunto come vi dicevo in quel video deve assolutamente chiarire che significa per lei in ogni caso tira fuori sempre qualcosa però il 15 il 30 di giugno sono stati chiusi 15 giorni probabilmente di un ciclo bisettimanale su Bitcoin ciclo assolutamente rialzista molto forte che lascia poi la seconda parte del ciclo mensile un po' nel dubbio perché se non superiamo questo massimo allora questo ciclo mensile ha fatto la sua fase di up e quindi a quel punto fino alla chiusura di questo ciclo mensile noi andiamo a fare un laterale ribassista o un ribassista e questa cosa ha tempi veramente veloci cioè questo massimo non può durare tanti giorni quindi questa è la vera informazione di questa analisi siamo già a 1, 2, 3 giorni considerando però sabato e domenica quindi sostanzialmente solo oggi, domani, dopodomani sono i giorni validi da qui ragazzi a momenti o tenta il breakout di questo livello di massimo quello creato a giugno sempre il massimo dell'anno 2023 per Bitcoin cioè 31.004 o tenta il breakout di quello in questi giorni oppure secondo me se già siamo in una fase del genere e tra pochi giorni non riesce a fare il breakout andremo in close del ciclo mensile poi senza fare nuovi massimi e a quel punto bisognerà attendere probabilmente la fase da metà luglio in poi la vedo un po' poco probabile secondo me il mercato è sdlanciato in attesa di questa resistenza che comunque è un doppio massimo è un'area di pricing a livello annuale estremamente forte il mercato Bitcoin ha corso veramente tanto nel 2023 ed è stato un ottimo asset siamo in pre-estate secondo me questa resistenza doveva essere un po' più incisiva invece il mercato ha fatto solo un po' di storno si è appoggiato su questa media mobile che è quella che utilizzo da 11 periodi quella breve sul grafico daily e poi sta ritentando ora ci sono tutte queste shadow questa è una fase appunto di attesa, di respiro se dovesse in effetti andare a spingere lo potrebbe fare con grande tranquillità e soprattutto un breakout di questo livello come vi dicevo quando validato cioè non come questo che per esempio non è stato valutato alla fine della close della candela daily ma comunque possiamo anche vedere se viene validato per esempio su candele più piccole quelle sono tecniche di trading ad esempio il 4 ore eccetera e a quel punto probabilmente lascerebbe spazio ad ulteriori incrementi perché lì come abbiamo visto nell'ambito delle cripto ragazzi come qui per esempio è stato breccato questo livello di resistenza dato spazio al pump pumpone gigantesco qui è stato breccato e definitivamente invertito il trend del canale quindi qui inversione del canale con la trend line qui inversione statistica del trend ribassista due pump e sono tutte e due avvenuti come vedete proprio inversione proprio a breakout dei livelli il resto poi del rialzo è quasi nullo vedete quindi insomma in pratica che vi sto dicendo che bitcoin si fa la strada che si deve fare tutta durante il breakout cioè non lascia spazio poi a ingressi successivi questo è anche la tipologia del mercato molto diversa dai mercati precedenti molto diversa degli anni precedenti molto diversa dalle tecniche di analisi di tecnica che avete magari letto se qualcuno di voi ha letto nel libro che riguardavano le stocks degli anni che furono e insomma questi mercati moderni vanno ragionati in maniera differente allora questo mercato probabilmente se fa un break spinge e si fa un'altra candelona quindi io poi mi aspetto l'arrivo intorno ai 32 33 mila euro praticamente all'interno della stessa giornata o poco ci manca cioè nella giornata dopo e in sostanza il modo di bitcoin è di confermare il breakout che poi non lascia spazio però a livello proprio di trading non lascia spazio ingressi senza rischio questo mercato è un po' da gestire in questo in questo modo se non che se fa questa cosa deve farlo entro questa settimana secondo me perché già la prossima settimana diventa assolutamente non eccessiva questa cosa qui e quindi non è cioè poi andiamo in chiusura del ciclo mensile probabilmente insomma con una buona probabilità andiamo a vedere invece ethereum perché ethereum sta facendo dei ottimi numeri in quanto ha iniziato a recuperare un po' di forza relativa rispetto a bitcoin è comunque lontano da questa zona dei massimi dovremmo fare un video dedicato proprio alla questione ciclica di ethereum perché c'è sempre la questione del grafico con ciclo annuale che non si capisce se è stato concluso sul minimo di giugno o qui lo scopriremo a brevissimo perché questa fase anche di rialzo così corposa già un po' rispetto alla alla sua struttura ciclica se fossimo diciamo in una struttura annuale dovrebbe fermarsi a breve ve lo dico ed è improbabile che se siamo nella chiusura annuale di ethereum venga superato questo livello 21.000 scusate 21.000 270 dollari è improbabile non è che non sia possibile perché a livello statistico non ha vincoli ribassisti in quanto tutti i minimi sono stati rialzisti quindi può anche tranquillamente fare il break e poi andare in chiusura e sarebbe comunque un ciclo annuale però è improbabile cioè la probabilità è più bassa solitamente nella serie storiche riguardanti i cicli che si venga fatto un massimo in questo punto qui cioè nella fase finale quindi lì si anacquerebbero ancora di più le acque e non comprenderemo se effettivamente questo ciclo annuale di attimo è iniziato a luglio da giugno del 2022 oppure a novembre 2022 insieme a bitcoin è veramente complessa questa fase e l'analisi ciclica qui diciamo il jetter mi imbarca cioè non può darci un'informazione se non tirando fuori comunque diciamo dal cilindro assi nella manica molto opinabili diciamo quindi questo è il discorso generale meglio dare spazio al mercato di indicarci la sua strada anche perché tanto a livello operativo c'è poco da fare queste eventuali fasi rialzisti io l'ho tradata per esempio su bitcoin come sapete perché la forza relativa di ethereum è più bassa rispetto a quella di bitcoin in questa fase quindi non conveniva sostanzialmente tutto qui però sempre longo è cioè non è che possiamo andare contro trend in questo momento certo è a bisaglie di un'eventuale inversione se avete ethereum potrebbero essere tradate quindi si parla sempre di trading in questa fase non di holding chiudendo magari qualche posizione oppure semplicemente facendo gli short di copertura oppure il classico short proprio per fare gain speculativo di un paio di ore insomma quelle che si fanno sulle cripto di qualche giorno va bene allora fase quindi di ethereum sicuramente sul minimo di questa questo minimo qui che è quello di giugno è iniziato il nuovo ciclo mensile anche ethereum probabilmente si avvia verso un ciclo mensile di oltre 30 giorni e quindi come vedete sta probabilmente disegnando il massimo del ciclo mensile e facendo appunto una cosa del genere per poi andare in chiusura questo ciclo mensile andrebbe a chiudersi intorno alla metà di luglio quindi o i mercati ragazzi vi ripeto accelerano in questa settimana e ci fanno il massimo della prima decata di luglio ed è lì che mi attendo anche per cauti bitcoin se lo fa oppure poi è tutto rimandato al mensile successivo perché a meno di alternative anomale è difficile che poi i mercati più va avanti il tempo e più questo mensile diciamo vorrà creare la sua fase di ribasso naturale quindi la fase di chiusura appunto di questa fase che ovviamente magari non sarà neanche tradabile giusto per intenderci ma è difficile che il mercato abbia la forza magari di spingere proprio gli ultimi giorni in questa fase quindi probabilmente chiuderà prima il mensile poi spingerà mentre questa settimana resta ghiotta anche per Ethereum proprio per spingersi a riportarsi vicino ai suoi massimi e quindi quel famoso tentativo se riesce o meno di raggiungere questa fase anche perché bitcoin l'ha superata ampiamente e infatti andiamo a vedere per esempio il grafico della forza relativa di Ethereum contro bitcoin ed è in trend ribassista dai massimi che aveva raggiunto a settembre 2022 quindi da settembre 2022 Ethereum è in trend ribassista contro bitcoin è un laterale ribassista ma è comunque un ribasso ed essendo anche questo mercato fortemente correlato perché se calcolate il tasso di correlazione di Ethereum e Bitcoin è veramente altissimo ragazzi questa perdita di forza relativa è veramente una perdita molto importante perché negli ultimi anni Ethereum è correlato fortemente a Bitcoin quindi non è una cosa da niente assistere a vedete sul minimo precedente un meno 29 e sugli attuali prezzi un meno 26% 25 e qualcosa circa di oscillazione negativa cioè in pratica Ethereum ha perso il 29 25% rispetto diciamo al punto dove lo guardate rispetto a Bitcoin da settembre quindi 6 mesi e qualcosa in questa fase quindi vedete una forza relativa negativa che secondo me ha anche i giorni contati io questo lo dico perché siamo nella fase di chiusura di questo ciclo quadriennale quindi qui attenzione perché potrebbe veramente fare cose importanti cioè potrebbe crashare e fare velocemente la chiusura del ciclo perché un ciclo quadriennale è un ciclo forte ragazzi quindi non è una cosa da niente già per esempio in questa fase vedete questa chiusura di un annuale importante è stata seguita da molte settimane di ribasso questo è un grafico settimanale resta secondo me il punto di snodo la discesa di questo rapporto di cambio sotto 0,052 per me ancora possibile se la chiusura del ciclo quadriennale spingerà mi sembra improbabile che TH riesca a mantenere questo minimo qualora qui fossimo in una chiusura di un ciclo quadriennale non abbiamo sbagliato nulla a livello ciclico altrimenti sicuramente magari c'è qualche errorino nella centratura ciclica si definisce così quindi una cosa del genere un doppio minimo sì ma questo consisterebbe probabilmente in una perdita di forza relativa ulteriore rispetto a questo massimo quindi dovremmo scendere intorno alla fine a un meno 42% di forza relativa di Ethereum contro Bitcoin solo allora e comunque in questa zona temporale anche se non arriviamo a quel target di prezzo ma vedete siamo nell'area grigina che io vi metto sempre in evidenza questa è una zona temporale importante perché da qui Ethereum potrebbe a un certo punto invertire questo trend ribassista di settembre e cambiare le carte a quel punto attenzione perché faremo dei video dedicati anche perché ho delle aspettative poi positive proprio su ETH rispetto a Bitcoin quindi questa fase di questi anni di questi mesi non era utile semplicemente stare su ETH rispetto a Bitcoin perché non performava come Bitcoin tutto qui però tra un po' secondo me questa cosa potrà essere addirittura invertita quindi amanti di ETH non lo demordete perché potrebbero arrivare insomma tra un paio di mesi uno due mesi giornate migliori prima però bisogna attendere la chiusura di questo movimento e siccome siamo nei momenti di snodo cioè questi momenti insomma che si creano queste cose qui bisogna stare veramente attenti a questa fase che al momento può spingere al ribasso in maniera anche più pronunciata come? magari lo fa proprio ed esclusivamente con il breakout di Bitcoin dei 31.000 che magari potrebbe innescare una pump importante tra le altre cose ultimo grafico di oggi che facciamo l'unplan ragazzi vi faccio vedere anche la dominance giusto un accenno poi facciamo un video dedicato perché proprio nella dominance di Bitcoin si evince anche questa sua struttura e vi ripeto la dominance di Bitcoin è fortemente correlata a quella di insomma all'andamento di Bitcoin Bitcoin vedete siamo infatti nella fase short che ripeto per chi non conosce la ciclica significa la fase in cui il mercato può invertire questo trend realzista di Bitcoin contro il mercato cripto ancora siamo nella prima parte quindi è possibile l'ultimo guizzo in questa zona qui però vedete fra qualche mese poi se tutti questi queste centrature sono corrette dovremmo avere una fase di riflessione proprio della dominance di Bitcoin a favore delle altcoin soprattutto ethereum parliamoci chiaro questa fase potrebbe essere interessante per eth dopo però attenzione che succede inizia un nuovo ciclo annuale della dominance aia 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 perché poi bisognerà capire che cosa farà quel ciclo annuale Bitcoin ancora più forte qui vi do una data siamo a novembre 2023 non è tanto lontano quindi poi bisognerà vedere se insomma entro la fine dell'anno in sostanza quindi ancora forza di Bitcoin fino alla fine dell'anno rispetto al cripto cosa ne pensate scrivetemelo anche voi nei commenti e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ragazzi c'è